Con Tania le stupisco sempre, ma questa volta... Tania che fa aerobica! Tania per te! Tania con il passecgino e Tania che fa la spesa! Sorpresa! Adesso viene in bello, guardate! Tania cammina felice con le sue gambe! Tania cammina davvero! Spinge il carrello e porta spasso il bebè! Tania cammina felice con le sue gambe! Wow! Tania cammina felice, l'unica che cammina davvero! Tania cammina felice!